Bella raga sono Master Z e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi raga video diverso da solito perché raga finalmente dopo tantissimo tempo mi sono deciso E oggi intervista doppia con Lucchino Mi raccomando raga per una intervista doppia con altre persone arriviamo a 100 like ok? Io l'ho detto se ci riusciamo GG altrimenti non fa niente Però se riusciamo a raggiungere 100 like raga vi porterò un'altra intervista doppia con altre persone Quindi arriviamoci Prima di iniziare l'intervista doppia mi raccomando raga se siete nuovi Campanella, like, iscrizione per essere attivi su tutto quello che faccio Sia video che live direi di partire Eccoci qui raga finalmente siamo con Lucchino Lucchino saluta un po' tutti quanti Buonasera, buonasera a tutti quanti Allora, prima di iniziare questa intervista doppia Lucchino cosa vuoi ricordare alle persone che ci guardano? Prima cosa vi dovete iscrivere al canale Mi sembra giusto, mi sembra giusto Attivare la campanellina, lasciare un mi piace, commentare con mangio la pasta Giusto, ci può stare anche questo Supportare Master Zane con il codice Alessandro Alveo nello shop Questo è ovvio, fatelo tutti quanti raga Bera l'acqua Poi bevete l'acqua Ok Lucchi tu sei pronto per questa intervista? Dai, allora, prima ho detto che a 100 like non ha intervista Ma tu quanti like, cioè quanti like devo raggiungere per un'altra intervista doppia? 150 150 150, raga, Lucchino ne ha aggiunto i 50 Vabbè, ci può stare, ci riusciamo Buono Vabbè, direi inizio a intervista doppia Aspettate Iniziamo Alessandro Alessandro Va, ci sono Ci sei? No Alessandro Luca Master Zane Lucchino 17 anni 13 Da Napoli Toscana Allora, ci siamo conosciuti nelle live, cioè praticamente lui è passato nella mia live e da là ci siamo conosciuti Su YouTube Allora, tre aggettivi a descriverlo, allora, pizzaiolo, simpatico, antipatico Master Zane, Alessandro, Alessandro Leo Giusto Ma il più bello, secondo me, è Marco Sono io Il più timido Boh, non so, secondo me Lui Lui Allora, quanti sono i sette mani? Sono 18 12 Allora, colore preferito o verde o viola o rosso Rosso Eh, mare Mare Allora, cibo preferito, allora, ce ne sono due Pizza e carbonara Allora La pizza sicuramente è buona Però secondo me dopo che la mangi tante volte ti viene annoia Quindi pizza col kebab Giusto, vabbè, buono, buono Allora, youtuber preferiti? Ce ne sta solo uno Chi sarà? Master Zane, ovviamente Allora, Master Zane, per forza Poi Fieric Rathorix E quegli altri Ok Canzone preferita? Luca Di H7 Ehm, scudino Sono pro con TikTok Contro da come lo usa la gente Cioè, ci sarebbe anche ma la gente lo usa male, quindi contro Allora, io uso tanto Youtube, Instagram e basta Boh, Discord Ah, dai, me contro te cosa penso? Niente Sono due Youtuber Due youtuber Da volire Oh C'è un dissing Ehm Successo Successo Allora, la pizza si prepara con farina, acqua, lievito e sale Allora, devi andare, devi prendere il telefono, fai un numero, 113, ordini la pizza, dopo 5 minuti ti arriva Ma questo è un numero sbagliato, Luca, mi sembra... Cioè, numero sbagliato, non chiamate Allora, ehm, ho iniziato a giocare a Fortnite nella stagione 2, capitolo 1 Ehm, ho la stagione 3, del capitolo 1 A Napoli In Toscana Ehm, vorrei abitare o in America o al nord Ehm, sto bene qua, quindi in Toscana Ciao, Luchi Ciao, Masterzane Allora, stato bello, scrivete Ok, direttamente E raga, il video è finito, spero che comunque questo video vi sia piaciuto Arriviamo, come ha detto Luchina, a 150 like per un'altra intervista con Bo, con lui e pure con altre persone Andiamo a vedere E niente, se ancora non è fatto, iscrivetevi, lasciate like, campanella attiva e direi di condividere il video Oh no, Luchi Eh, per forza Ok Ok, se no Se no non va bene raga, non va bene Ultima cosa Questa qui raga è una clip bonus, solo perché è arrivato fino alla fine Luchi, fai i pesi con lo sgabbello Raga, solo perché è arrivato alla fine, questa è Quindi, eh, bravo Tu che sei rimasto fino alla fine Solo per te, Luchi Ti fai i pesi con lo sgabbello Guarda Ma è che... Non saprano Oh no, o non sono forte Sei forte, sei forte Vabbè, raga, il video è finito Ci vediamo a prossima live o a prossimo video Ciao raga Saluta Luchi Ah, bel saluto Ciao raga Ciao raga